Non si ferma la macchina della solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Qui siamo nella sede del Modavi Infinity a San Silvestro, a Pescara, dove sono stati raccolti quintali di genere di prima necessità e vestiario donati dagli abruzzesi. Oggi parte un tir, come ci spiega il presidente Mauro Dell'Orletta. Nella giornata di oggi aspettiamo un tir che viene a caricare tutto il vestiario. Infatti, come vedete da questa parte qui, abbiamo separato tutti i vestiti per bimbi, per adulti, scarpe e quant'altro di prima necessità per quanto riguarda il vestiario. E poi, tramite il coordinamento Regione Abruzzo e Modavi, ci diranno un attimino quando andare a portare gli alimenti di prima necessità, sia per bimbi e sia per gli adulti. Questo sempre lo consegneremo noi personalmente e andremo nei confini della Romania o della Polonia e quindi porteremo più di 60 quintali di alimenti. Quanto materiale avete raccolto e quanti volontari avete impiegato? Allora, noi con due giorni abbiamo messo a disposizione circa 60 volontari. C'è stato anche tantissimo lavoro anche il dopo e quindi adesso diciamo che sono pronti per portarli nel centro di raccolta nostro regionale Modavi, presso Ibisco. Allora, dal magazzino mi dicono che ci sono oltre 150 quintali. Intanto, nella sede di Pescara Porta Nuova continuano ad arrivare altri profughi ucraini. Olga, tu vivi qui da tanti anni e sono arrivati, mi dicevi, i tuoi nipoti da dove? Da Nicolaio, da Mar Nero. In viaggio hanno fatto una settimana per arrivare in Italia. Sono contenti, grazie ai italiani che hanno dato il tetto sulla testa. Abbiamo tanti guai, purtroppo. Mio figlio sta arrivando proprio adesso da Nicolaio perché è circondato e è partito da Nicolaio per Odessa. Odessa pure, ieri partite 14 navi da Crimeia per circondare Odessa dal mare e dalla terra. Se passa Odessa, sarò contenta mio figlio, se no, perché purtroppo le truppe russi, pure l'elecoptere, bombardano gente civile che passano per la strada. E ci sono anche gli psicologi per dare loro un supporto, soprattutto ai bambini. Io sono Costantino Santori, sono il presidente di Psicologi per i Popoli Abruzzo. Siamo un'associazione di psicologia dell'emergenza e facciamo parte di un'associazione più grande, Psicologi per i Popoli Federazione e siamo accreditati al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Quindi il nostro compito è proprio di intervenire nelle emergenze e quale non più emergenza di questa. I rapporti sono un po' complicati perché c'è il problema della lingua, sono persone che arrivano e sono spaventate, sicuramente hanno un vissuto traumatico alle spalle e non indifferente. Per cui noi ci avviciniamo molto, molto con discrezione. Infatti noi ci siamo messi la scritta in cirillico, psicologi, e lasciamo che si avvicinino loro. Mi chiamo Ilenia Masci, appunto sono una volontaria dell'associazione e sicuramente i bambini sono la parte da attenzionare di più perché attualmente vivono un doppio disagio. Il primo è quello di magari non aver ancora capito cosa sta accadendo nel loro paese e magari trovarsi da un giorno all'altro in un altro stato, in un'altra lingua, immersi in un'altra vita senza sapere cosa accadrà. I familiari magari non hanno detto concretamente cosa sta accadendo, però già il fatto di partire senza i papà sicuramente è già un aspetto, un trauma importante.